Fornire adeguate conoscenze e strumenti utili agli imprenditori e operatori commerciali del Nisseno sull'adozione dei regolamenti europei REACH CLP e biocidi in materia di pericoli, valutazione e gestione dei rischi connessi ai prodotti chimici. Sarà il CEF Pass ad ospitare martedì 5 aprile alle 15 a Caltanissetta il quarto incontro previsto nell'ambito del progetto formativo-informativo Chimica Amica promosso dal centro e organizzato in collaborazione con il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico che rappresenta l'autorità regionale competente dei regolamenti REACH e biocidi emanati nel 2006 dall'Unione Europea per prevenire l'esposizione al pericolo delle sostanze chimiche e garantire un uso corretto e controllato. L'incontro con i partner progettuali, le associazioni datoriali, gli imprenditori e gli operatori economici del territorio si svolgerà presso la sala Monsignor Garcia. È fondamentale sensibilizzare il tessuto economico produttivo all'adozione di politiche orientate alla sostenibilità ambientale e al rispetto dei protocolli di sicurezza con il duplice obiettivo di salvaguardare le persone e proteggere i luoghi di lavoro da ogni forma di rischio per la salute, dice Roberto Sanfilippo, direttore generale del CEF Pass. La numerosa partecipazione agli incontri e il forte interesse alla tematica da parte delle imprese nelle varie città siciliane confermano che la corretta formazione e informazione rappresentano la strategia giusta per l'affermazione di imprese di valore ed eticamente responsabili. Con questo progetto il CEF Pass testimonia il suo ruolo di interlocutore strategico nell'attuazione degli interventi a supporto del Servizio Sanitario Regionale.